Splendida spietata Varese di Johan Royakers. Da quando il coach olandese è arrivato, svegliando la bella addormentata, solo i campioni d'Italia della Virtus Bologna sono riusciti a fermare i biancorossi, altrimenti inarrestabili e inesorabili come nella trasferta di Venezia, vinta alla grande con una prova di carattere e forza. Gli 11 punti di margine alla fine della gara chiusa a 93-82 fanno capire quanto Varese sia stata travolgente in casa della Reier battuta, con una solida prova corale in cui hanno strappato applausi proprio tutti. Se i soliti Kini, autore di 26 punti, e Vene, che ha chiuso a quota 16, hanno garantito quantità come Sorocas, 14 punti per lui, meritano una citazione speciale, 4 giocatori a partire da Giovanni De Nicolao, sontuoso play, autore di 16 punti, con 11 rimbalzi e 6 astit sfornati ai compagni e capaci di guidare con autorità la difesa. Giancarlo Ferrero è stato un capitano di grande cuore, mentre i giovani Matteo Librizi e Nicolò Virginio sono ormai delle certezze. I varesini che non hanno neppure 20 anni e già lottano in Serie A contro i giganti del basket sono un esempio per tutti. Ora Varese tornerà in campo venerdì per il recupero di campionato in casa di Reggio Emilia, guidata dall'ex Attilio Caia. E intanto l'artefice del rilancio di Varese, Coccola e Suoi. A tutti i miei giocatori per aver giocato una grande partita. È stata una battaglia e hanno combattuto con Venezia fin dalla palla 2. Abbiamo messo la partita dove volevamo, nella durezza, nella corsa e nell'intensità. Qualche volta abbiamo esagerato negli 1 contro 1, però abbiamo difeso bene, attaccato bene in altre occasioni. Venezia è un top team, gioca in Euro K, ha appena vinto contro il Budok Nosta, un avversario forte. Congratulazioni, complimenti davvero a tutti i miei giocatori. Complimenti ai miei giocatori.